Buongiorno a tutti. Allora, una sofferenza estrema, un giramento di scatole estremo, primo tempo DM perché noi attaccavamo, attaccavamo, cross, 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 tiri in porta verso Sirigu? Nessuno. Il Torino l'unica azione che ha fatto un calcio di punizione e cross in mezzo si dimenticano di Gianco e meno male che è un difensore come Maguire e di testa colpisce il palo anziché segnare perché proprio se erano dimenticato lì in area, bello tranquillo, ha preso il palo. E lì quando le annate sono giuste succede anche questo. Il Torino non meritava di passare in vantaggio ma noi neanche. 0-0 è il risultato più che giusto perché veramente l'Inter ha provato a fare gioco ma il Torino si è difeso come si deve difendere una provinciale. Io quando le squadre si difendono così non è che posso dirgli eh che squadra di merda, si mettono, mettono il puro. Fanno bene, devono salvarsi ragazzi miei, le squadre si devono salvare. Non è come negli altri campionati in cui se finisci in Serie B non succede mica niente. Qua se succede, se finisci in Serie B. È un dramma, è un dramma, è morta la mamma, è come se morisse la mamma, anche se è esagerato come termine, ma per alcuni è così. A Genova, se il Genova dovesse finire in Serie B non escono dallo stadio, escono in mutande, escono, gli ondare maglietta, calzoncini, scatutto, se no non escono dallo stadio se finiscono. L'hanno fatto un anno a quelli del Genova. Vergognatevi, non siete degni, dondateci le maglie, perché erano finiti in Serie B. Quindi ragazzi miei, il Torino ha fatto la partita che doveva fare, si è messo lì in difesa, ha pressato tutta la partita, uomo contro uomo, letteralmente, perché praticamente erano sempre addosso ai nostri giocatori, naturalmente, magliettina nera-azzurra, con la pirellina che dall'anno prossimo non ci sarà più. Comunque, primo tempo proprio 0-0, risultato giustissimo, poi ripeto, l'occasionissima del Torino, non si può discutere, ma ha fatto quella. inizia il secondo tempo come il primo, poi c'è Izzo che fa la cagata, perché bisogna dirlo, Izzo ha fatto una cagata. Allora, passaggio a Lautaro in area. Lautaro e spalle alla porta. Tu ancora prima che gli arrivi la palla, cosa fai? Gli entri in quella maniera lì ridicola. Cosa mi rappresenta? Entrargli in quella maniera lì? Eh beh, rigore netto. L'ha preso secco proprio, gli ha dato una pesciada come se soldi in milanese, una pesciada, un calcio, perché è entrato sulla caviglia sinistra, se non sbaglio, di Lautaro, fallaccio da stupido, perché quel pallone lì lui è spalla alla porta, cosa vuoi che faccia? La prende, la controlla, stai lì, ti metti a fargli il muro e stop, no, entra, fallaccio. Un po' come quello di settimana scorsa in Sassuolo-Napoli, il fallo a centro area, no? Che ancora prima che arrivasse la palla lo stende, e vabbè, sei un fesso. Quindi, rigore, Lukaku, mi tocco le balle, è perché ci vuole, non sbaglia, per ora non ne ha sbagliato uno, quindi mi ritocco le balle, e quindi segna, 1-0. Passiamo in vantaggio, Torino giustamente, cambi su cambi, entra Zaza, entra Ansaldi, eccetera, eccetera, arriva un pallone innocuo sul secondo palo, la palla sta uscendo, hai dietro un giocatore che non la prenderà mai, perché tu sei sulla linea del fondo, quindi, cosa cazzo la colpisci di testa a regalargli il calcio d'angolo? E prendiamo il gol sul calcio d'angolo, perché abbiamo un portiere che dorme, perché arriva un tiretto del put e lo respinge di piede, poi gli ritira a quell'altro un tiretto del put che gli passa un centimetro che basta che sposta il piedino senza tuffare, invece lui si deve tuffare, e ora che va giù, e ciao, la palla è già entrata. Poi dopo qualcuno ha detto, no ma c'era il fallo su questo, il fallo su quella, scontri in aria e calcio ragazzi, non è fighette, se giocassimo a fighette, ma hai toccato, oddio mi hai toccato e fallo! scontri di gioco, come ce ne sono e ce ne dovrebbero essere. Cacchio negli anni cinquanta queste cose qui ma manco le consideravano in aria, slevati dalle palle! Negli anni cinquanta il portiere usciva, potevi andare lì a tagli un rusone, non era fallo! Adesso no, devono fare il gioco delle fighette, l'hai toccato, oddio l'hai toccato, ti do il cartellino già, lo mandate a fare in culo, scusate il francesismo. Mi hanno preso un gol da deficienti, perché Andanovic ogni tanto deve dormire, primo tiro che lo respinge, tu col piedino, il secondo tiro è a mezzo metro da te, basta che muovi il piede e la respingi, no si deve tuffare, da bradipo proprio, perché ogni tanto lui è un bradipo, ogni tanto torna a essere super Andanovic, oggi si vede che si stava rompendo le palle, si è arrugginito perché non tiravano mai in porta, due azioni hanno fatto il Torino, quel cos'è lì con Gianco lasciato libero come un pinocchietto e poi il gol, il gol, basta. Ah sì c'è stato un altro tiro che lo prendevo anch'io quel tiro lì, va bene. Quindi ci ributtiamo in avanti, entra anche Sanchez eccetera eccetera e Sanchez inventa l'assist al bacio, l'assist al bacio, al bacione, un bijou perché gli arriva questo palloncino sulla tre quarti, guarda in mezzo all'aria, fa spiovere una palloncina teleguidata e Lautaro va in cielo perché è proprio andato in cielo tac di testa di prepotenza proprio da attaccante vero, mi ha ricordato il gol di Ciccio Graziani ai mondiali dell'82 con un cono che però era ancora più angolato, più potente, più quello che volete e io lo continuo a dire se Lautaro fosse 10 centimetri più alto sarebbe il più forte centravanti del mondo, purtroppo è un metro e 74 e quindi perché tecnicamente non gli puoi dire niente. Fisicamente lui anche se è un metro e 74 è un torello, però è un metro e 74, forse 10 centimetri più alto potrebbe sfidare Haaland e Mbappé per il pallone d'oro, invece è un metro e 74 e continuerà a essere un ottimo attaccante e con Lautaro e con Lukaku sono così, 33 gol in due, ricordo 33 gol in due non è ancora finito il campionato, mancano ancora 11 giornate, quindi possono arrivare a 50 e l'avevo chiesto, l'avevo chiesto il gol dei due attaccanti e finalmente sono tornati a segnare tutti e due, ma il gol di Lautaro veramente è un gioiello, tutta l'azione, il cross di Sanchez, il suo colpo di testa e nel primo tempo aveva fatto un cross di Peris, si era andato in anticipo di testa, è uscita di tanto così e non la prendeva più il portiere, è proprio andato in anticipo perfetto sul primo palo, l'ha girata anche abbastanza, ma non abbastanza per metterla dentro, sennò avrebbe fatto un altro golasso. Oggi chi era un attimino giù di corda mi è parso Lukaku, che comunque come al solito fa sempre a sportellate, è che oggi Bremer ha fatto un partitone, devo dire, perché gli ha rotto le palle per tutta la partita, era lì che gli mordeva le caviglie, chi invece ha fatto una pessima partita nel Torino, Izzo veramente, il rigore è stato un regalo, un regalo e lì proprio tu non puoi fare un fallo del genere, credo che l'allenatore gli farà o mazzo tanto perché non puoi fare un fallo del genere col giocatore e spalle alla porta, però l'ha fatto e quello è calcio di rigore, niente da dire. Sul loro gol, vabbè, se volete dire c'erano le spinte, io francamente ho visto le classiche spintarelle che ci sono in gare, a spingi te che spingo io e alla fine, ma ho visto la dormita messa, è quello che dà fastidio perché Andanovi c'è un ottimo portiere, però dorme, perché sul secondo tiro veramente non era un tiro angolato, era un metro, ma neanche un metro, mezzo metro da te, allunghi il piedone e la respingi di nuovo, invece era rimasto lì, ho fatto una parata, è sufficiente, io me lo ricordo quando cominciamo 1 a 0 con la Roma, ci fu quell'azione lì, fece tre parate in 15 secondi, una dietro l'altra, nella stessa azione, salvando il risultato, io rivolgo quell'Andanovi c'è lì, se no è inutile, detto questo ragazzoni andiamo a dare i voti, questa è una vittoria pesantissima, tra cui si aggiunge anche la sconfitta della Roma-Parma, quindi direi che abbiamo blindato la Champions, più 15 sulla quinta, certo c'è ancora il Napoli che può arrivare a 53 punti, se vince stasera col Milan e dovesse battere la Juve nel recupero del 7 aprile potrebbe recuperarci 6 punti ma andrebbe comunque a 13 punti da noi, è a 18, no a 12, quindi credo che la Champions, un mesetto prima chiudiamo il discorso, più o meno come chiuderemo spero il discorso anche con lo scudetto, vedremo perché adesso arrivano partite un attimino più toste, soprattutto quella con il Napoli, se non sbaglio tra due settimane, no tra tre perché c'è anche lo stop per la nazionale, che appunto giustamente inter-Napoli ci sarà, Napoli-Inter scusate, dopo lo stop per la nazionale, tac, sempre nei momenti peggiori, nei momenti arriva sempre la sfida importante, comunque Andanovic gli do 5 e mezzo, mi spiace, gli do 5 e mezzo, Skriniar devrà i bastoni oggi ottimi, perché a parte il parapiglia in area, per il resto non è che hanno dovuto fare chissà che cosa, quindi ottimi nel senso che non è che si sono sprecati più di tanto, 6 e mezzo a tutti e tre per non stare lì a rovinargli la media, a Kimi così così, anzi se anche mangia, madonna Benedetta quanto gliene ho dette, Lautaro gli mette lì il pallone a centro area, sei lì tra il dischetto del rigore e l'area piccola, devi calciare in porta in una maniera decente, cosa fai una ciabattata centrale che il portiere, ma porca di quella put, put, calcia forte, sfonda quella cazzo di porta, sempre col piattino, devono tirare con la tiro di misura così c'entra la porta, no, devi calciare di potenza a mezza altezza, a 150 all'ora, che anche se il portiere prova a prenderla va dentro anche lui, no, devono fare il tocchettino piano, e dopo abbiamo preso il gol dell'1-1, giustamente, perché giustamente Torino sbaglia il gol dell'1-0, noi sbagliamo il gol del 2-0, il Torino fa 1-1, è normale, è un classico, quindi a Kimi 5,5, Perisi 5,5 perché anche lui oggi NCS non ci siamo, Brozovic 6, ma ha fatto il compitino oggi, ogni volta che arriva alla palla la girava da Kimi o a Barella, chi dei due era sulla fascia destra e lui la buttava di là, questo ha fatto Brozovic, per il resto non è che dovesse interdire più di tanto perché il Toro sembrava di vedere giocare la Stella Rossa con l'Olympic Marsiglia nella finale dell'87, che l'allenatore gli disse quando hanno la palla loro li lasciamo giocare e li fermiamo, quando ce l'abbiamo noi gliela ridiamo, ecco questo faceva il Torino, buttava via i palloni, noi arrivavamo limitare loro, via la palla, via la palla, via la palla, ho fatto quell'azione lì che poi c'è stato il calcio di punizione e basta, ma proprio hanno giocato per portare a casa lo 0-0, alla fine l'han pagato. Barella al solito motorino, anche se però anche lui quando prova a fare i tiri me li tira fuori di sei metri, comunque sei e mezzo a Barella, Gagliardini sei per l'impegno, io a Gagliardini do sei per l'impegno ma per il resto oggi veramente si è fatto a monire, non ne ha combinata una giusta, quando è entrato in area a fare un colpo di testa a momenti va più vicino alla bandierina del calcio d'angolo, il pallone che non ha la porta, io lo continuo a dire Gagliardini deve stare fuori dalle due aree di rigore, mettersi sulla tre quarti dell'Inter e sulla tre quarti avversaria e giocare in quella fascia, in quella zona di campo, nelle due aree di rigore lui deve starci lontano perché è un giocatore inutile, meglio che ci va qualcun altro più bravo, Lukaku gli do sei per l'impegno perché oggi Lukaku giusto il rigore, Lautaro 7, migliore in campo perché oggi Lautaro si è fatto un mazzo tanto anche se nel primo tempo hanno detto gli attaccanti si sono visti poco, Lautaro si è visto, le hanno salvato un gol sempre Bremer se non sbaglio, sul rimpallo stava per avventarsi sulla palla, l'ha anticipato, il colpo di testa molto bello, poi ha fatto il gol, si è procurato il calcio di rigore anche se è più una cagata di Izzo, bene, Sanchez 7, l'assista al bacio, basta quello per fargli dare il voto positivo, Darmian è entrato in campo mancava poco quindi non gli posso dare nessun voto, Erissen oggi 6, non ha fatto nulla di eclatante ma non ha fatto neanche disastri, l'ho visto anche un paio di volte, guerreggiare per prendere la palla, recuperare dei palloni, sta imparando, ragazzi piano piano impara anche lui, Daltonde se uno è un campione impara, il gioco del calcio è il gioco del calcio, impari, c'è poco da fare, prima o poi impari, se sei bravo, perché tanto è quello che si gioca, ti adegui e impari, non è assolutamente un problema anche se non è nelle tue corde di essere un guerrigliero, un combattente eccetera, ma se entri in un determinato contesto impari a usare sia i piedi buoni per smarcare il compagno o fare gol e impari anche a essere un attimino più combattivo per recuperare i palloni. Yang lasciamo perdere, no ve l'avevo già detto, ah no è vero ve l'ho detto nel senso, Yang lasciamo perdere perché quel pallone lì su quel lungo cross, tu sai di fianco, non alle spalle, di fianco il giocatore avversario, la palla è alta, devi anche saltare per colpirla di testa, sei sul fondo del campo, lì è anche colpa del Diandanovic che gli deve urlare lascia, quel pallone andava fuori, tu non ti regali il calcio d'angolo, loro non segnano, vabbè, comunque lasciamo perdere oggi veramente Yang e Peris di 5 e mezzo perché è meglio sorvolare. Vecino e Darmian ve l'ho detto sono entrati negli ultimissimi minuti quindi senza voto, mi sembra di aver letto tutto. Ragazzoli questa è una vittoria pesantissima perché è arrivata con grande sofferenza, si sapeva perché ve l'ho detto gli scudetti si vincono con le medio piccole non con gli scontri diretti, la Roma quando perdeva gli scudetti con noi spesso e volentieri lo scontro diretto tra le due squadre era a loro favore, però poi mi andava a pareggiare con Livorno, perdeva con la Sampdoria in casa eccetera eccetera eccetera. Detto questo ragazzoli vi saluto vi ringrazio, altri tre punti pesanti, un'altra giornata in meno, ne mancano sempre meno, adesso siamo a 11 giornate dalla fine e stasera ci godremo i cuginetti contro il Napoli sperando in un bel pareggio che va bene per tutti e dalle sei la Juve dovrebbe vincere abbastanza leggevolmente a Cagliari, penso, penso, poi tutto può accadere nel calcio tutto può accadere, il Parma ha battuto la Roma quindi il Cagliari può battere anche la Juve e allora a quel punto se ce lo volete regalare noi lo accettiamo molto volentieri. Detto questo ci vediamo alla prossima, ciao!